Sulla vicenda relativa al Chieti Open Heritage riguardante il progetto con fondi europei di riqualificazione di valorizzazione culturale del Palazzo Massangeli e dell'ex Cinema Eden, il vice sindaco e assessore alla cultura Paolo De Cesare ha tenuto questa mattina una conferenza stampa presso il foyer del Teatro Marrucino, polemizzando con il centrodestra e parlando di un atto grave e a danno della città e preannunciando anche azioni legali a tutela dell'immagine di Chieti. Oltre che l'ex candidato sindaco Fabrizio Di Stefano diciamo che riguardano un danno subito, cagionato all'amministrazione comunale, di immagine oltre che di mancata chance, un danno veramente molto rilevante considerati anche i partner che erano presenti in questo progetto tra i quali spiccava anche l'università con il professor Trinchese. Il comune di Chieti è stato oggetto di truffa, di frode sostanzialmente perché si continua a dire che arriveranno 6 milioni di euro di finanziamenti relativamente alla valorizzazione e alla riqualificazione del Palazzo Massangeli e l'ex Cinema Eden per il progetto Open Heritage dell'UIA, il segretariato di Lill della Commissione Europea, c'è arrivata la risposta ufficiale, abbiamo sentito il segretariato e c'è arrivata la risposta ufficiale con una relazione, il comune di Chieti non ha mai partecipato a questo bando nonostante ci sia stato un lavoro importante con un incarico dell'amministrazione Di Primio, una delega dell'ex sindaco Di Primio il quale ha delegato ad agire in nome per conto dell'amministrazione relativamente a questo progetto la dottoressa Scogna Miglio, bene il comune di Chieti non ha mai partecipato, il progetto non è stato mai valutato, c'è stato un inizio di registrazione che ha sviluppato un codice e poi non ha mai inviato neanche la proposta di progetto. Noi tuteleremo lente con il segretario generale, con l'avvocatura del comune e ci saranno anche immagino delle costituzioni di parte civile perché il fatto è molto rilevante, squalifica chi ha agito veramente in questo modo, mi meraviglio dell'ex senatore Di Stefano che continua a dire, lo ha detto fino all'altro giorno in Consiglio Comunale, nonché anche nella conferenza stampa dei 100 giorni, ma tra l'altro lo ha scritto prendendo in giro 50.000 cittadini di Chieti perché ha inviato la lettera a tutte le famiglie teatini, a tutti i cittadini teatini dicendo che lui già aveva concretizzato un finanziamento di 6 milioni di euro, in realtà non è vero nulla assolutamente, abbiamo la riprova di questo e quindi non potendo pensare e dubitare che ci sia una collusione da parte del senatore Di Stefano perché è lungi da me pensare una cosa del genere, però comunque è sinonimo del fatto che è stato molto ingenuo il senatore Di Stefano, è caduto con tutte le scarpe in questa vicenda e quindi meno male che l'abbiamo sfaltato nella competizione elettorale e oggi non è sindaco di Chieti, altrimenti c'erano danni e bisognava preoccuparsi relativamente al comune per una gestione sua perché voglio dire se è caduto con tutte le scarpe in questa cosa, tutta questa esperienza che si vantava probabilmente non c'è.